Me la parcheggi tu, Sampie? Guarda che non si gira in moto. Ma non c'ho ancora le ali. Sono di seconda classe. Me lo fai un caffettino dei tuoi? Quello con la moca, un classico. Eh, ma c'è una novità. I grandi classici Lavazza. Il gusto della moca in un espresso. Che medicissimo! Lavazza a modo mio. Così buono. Ce n'è uno solo. Dite solo Yesa. Yesa! Grazie a tutti.